Ciao amici, oggi parliamo della miglior canzone d'amore mai scritta dall'uomo, quantomeno, in Italia. E voi direte, ma tu come fai a sapere qual è la canzone migliore mai scritta? Perché sono un genio, evidentemente. Allora, la canzone di oggi, che magari non conoscete perché non è esattamente nuova, è Una miniera dei New Trolls. Anzi, non è una miniera, è una miniera. 1968, uscita poi nell'album New Trolls del 70. 1980 è una canzone di genere, adesso è difficile definirlo, sicuramente rock, come anima musicale. Il tema invece è molto folk, se vogliamo, potrebbe essere una canzone di Bob Dylan, diciamo così. Qual è la particolarità di questa canzone? Beh, il tema, che è abbastanza particolare, non spesso citato nella musica moderna. E il tema è appunto quello dei lavoratori miniera e delle morti miniere. Voi direte, sì, ma questo cosa c'entra con una canzone d'amore? Ci arriviamo, ci arriviamo. Altra particolarità, per quale forse è diventata famosa questa canzone, è Il Ritornello. che viene cantato da Nico Di Palo, ok? Quindi ci sono due cantanti all'interno della canzone. Vittorio Descalzi nella strofa di Nico Di Palo nel Ritornello. Oltre ovviamente, beh, un'altra caratteristica tipica dei New Trolls, che poco tempo dopo sarebbero diventati una band progressiva, e cioè la chitarra, che sembra quella di Jimi Hendrix. Ho sempre pensato a questa cosa, quindi un po' di plagio di Jimi Hendrix c'è, secondo me. Allora, vediamo rapidamente qual è il tema della canzone, perché secondo me è la miglior canzone d'amore mai scritta, e non potrà essere mai battuta. Allora, beh, prima di tutto, prima di tutto, vediamo un po' il periodo storico in cui è nata questa canzone. Nel 1968, quindi il disastro di Marsinel è stato, dovrebbe essere del 1956, quindi questa roba, cioè anche dei lavoratori in miniera, era sicuramente più attuale che oggi, ecco, quindi a noi magari ci fa un po' strano, fa un po' folcloristico parlare di lavoratori in miniera, ma comunque. Poi ovviamente erano gli anni 70, quindi il tema delle morti sul lavoro, della sicurezza sul lavoro, eccetera, era un tema cardine della società, quindi è normale che all'interno di questi canti giovanili, come questa canzone, ci tornino, insomma, questi temi. Vediamo il testo. Allora. Le case, le pietre, ed il carbone dipingevano di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai, laggiù nel buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una pala, che scava, che scava. Le mani e la fronte hanno il sudore di chi muore, negli occhi e nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera, questa sera come tante, in un ritorno. Prima strofa, quindi è questa qua, ed è semplicemente una descrizione del lavoro del minatore, dove alla fine, ed è per questo che secondo me è una canzone d'amore, rientra invece appunto il viso caro di chi spera, cioè della famiglia poi, se volete vederla in senso più ampio del termine. moglie, figli, quello che volete, insomma. E qui c'è qualcuno, però nel ritornello cambia la prospettiva e si passa dal lavoratore in miniera a chi lo aspetta invece a casa. Seconda strofa Quindi qua evidentemente succede il disastro Minerario La parte finale invece finisce con il ritornello quello iniziale Tu, quando tornavo, eri felice di rivedere le mie mani, nere di fumo e bianche d'amore Niente, quindi Il testo è sicuramente molto semplice Però la cosa che mi interessa è che all'interno della canzone si sente proprio questo tema Di disperazione amorosa Ed è... mi piace molto perché non è un tema Molto indagato dagli autori, ok? Cioè questa roba dell'uomo che muore sul lavoro e di chi lo aspetta da casa Insomma è abbastanza Poco trattato, diciamo così Anzi, se avete qualche idea di qualche altra canzone o qualche poesia, qualche libro che tratta di questo argomento Fatemelo sapere qui sotto Fatemi sapere se conoscevate già questa canzone E fatemi sapere anche se avete sentito la versione originale o no Perché, purtroppo, come succede spesso per le canzoni anni 70 e prima Ci sono state un sacco di riedizioni di queste canzoni Nel tempo, per problemi di diritti, eccetera eccetera Quindi spesso fanno schifo Ascoltate la versione originale, quella del 68, ok? E niente Io vi saluto con un libro che ho preso ieri al mercatino Per il prezzo di 4,50 euro Magari farà parte di un prossimo club del libro scientifico Ed è QED di Feynman Arrivederci